buongiorno a tutti oggi spiegheremo uno dei problemi che affligge moltissimi acciatori cioè l'imbracciatura l'imbracciatura influisce penso il 70 80 per cento di un buon tiro quindi mi raccomando cercate sempre di mantenere quelle poche regole basilari per quanto riguarda il buon esito della fucilata allora molte persone imbracciano il fucile correttamente chi ha avuto la fortuna di andare a caccia magari un persone gli hanno fatto notare questi problemi chi ha fatto dei corsi di tira a volo chi ha fatto competizioni o chi ha avuto la fortuna magari nel tempo di sparare e migliorarsi via via ma chi inizia da poco o chi magari fa caccia dove si spara molto poco troverà sempre delle difficoltà in passato anche io tendevo sempre a imbracciare e sparare cioè cosa vuol dire al momento che vedevo il selvaggio tipo il fluo della beccaccia con il cane il tempo che il fucile arrivava alla spalla erano belle partite entrambe le fucilate nel tempo ho visto che aspettando la frazione di secondo in più i risultati sono cambiati quindi tendo sempre magari perdo qualche selvatico l'anno e una fucilata buttata la potrebbe risolvere però acquisto molti più animali a lungo andare cioè cosa vuol dire se io situazione classica cane fermo parte il fagiano se ho tempo di inquadrarlo tendo sempre a seguirlo leggermente prima di sparare ovviamente nel bosco questa cosa si complica ancora di più la mattina all'uscita un tordo che ti sbuca a 20 metri hai uno spazio di un metro e un metro e mezzo di tiro non puoi stare tanto a mirare ma è per questo si mandano anche via quello io dico sempre alle persone ai clienti che mi dicono io caccio con il cane non ho tempo di mirare buttola alla fucilata io rispondo sempre infatti le mandate via chi prende molto è quasi impossibile imbracciare bene quando si spara a questa velocità qui cioè è impossibile cioè quindi c'è chi lo fa io non l'ho mai visti chi prova nel tunnel vedo che chi spara così mette quasi sempre almeno una fucilata su tre fuori dal bersaglio se non addirittura di più ma perché perché c'è una spiegazione logica se io sono correttamente posizionato ovvero piede sinistro dritto al corpo un po leggermente in avanti senza mai piegare il ginocchio ora non si vede però senza mai fare questo cioè non devi mai abbassarti quando spari sempre ditto per far capire tipo oscillamento sempre ditto in maniera che la gamba dritta mantenga il corpo stabile il piede destro leggermente girato verso la telecamera in maniera da fare questo non devi alzare il piede il piede destro non si deve mai alzare i piedi devono sempre stare piantati al suolo e questo fare questo imbracciamento in movimento quando si imbraccia non fate così molte persone fanno così vedete pur avendo un fucile a misura se io imbraccio così cioè non apro il gomito e non mando avanti i bracci il fucile matematicamente ti andrà fuori posto perciò cosa succede se io imbraccio così abbasso la testa il fucile ora lo faccio accentuato però il fucile va alto se viceversa imbraccio veloce vedete che il calciolo andrà qua questo è un difetto che fanno i calci molto corti cioè in chi ha i calci più corti del normale tende a perdere il fucile gli fa di questo il corretto posizionamento è mando leggermente avanti il fucile e metto dentro la spalla vedete così poi ovviamente un istruttore di tiro saprà spiegarla meglio e ci saranno anche altre fonti di pensiero questo è quello che sinceramente ho sempre fatto io durante la la mia le mie stagioni di caccia perché cosa succede oppure altro problema quando si appoggia il fucile male questo succede a moltissimi specie anche a me quando viene sorpreso cioè ti vola via un selvatico e imbracci posizionando il calcio del fucile qua a chi è che non è capitato quando si posiziona il fucile qui oltre a spostare il fucile tutto sulla sinistra immaginatevi la botta che prendete se sparate soprattutto anche con armi leggeri ora non so se si potrà vedere dopo provrò a farvi farvi vedere una prova allora il braccio questo è fondamentale tanti sparano così cercate di guardare il braccio non deve essere chiuso dovrebbe essere leggermente aperto in maniera ora neanche così però in maniera da far entrare bene il calciolo nell'incavo della spalla guardate cosa succede allora un'imbracciatura corretta è così cioè con un mirino perfettamente allineato con l'occhio se io imbraccio male vedete che il mirino va da un'altra parte sia un braccio troppo dentro vedete che il mirino va da un'altra parte queste sono problemi che capitano molto spesso cercare sempre di inquadrare l'oggetto perché è posizionarsi bene con i piedi perché a volte specie con il cane non si può mai sapere dov'è il selvatico se io sono posizionato bene e imbraccio mandando avanti il fucile non facendo così se il selvatico vola di là potrò imbracciare di qua se vola su imbraccio sempre bene o viceversa di là se sono impedito con i piedi così uniti o un po divaricati vedete troverò sempre difficoltà perché il fucile lo imbraccio sempre male c'è tutto un fattore è tutto legato posizionamento piedi e movimento dei bracci avanti indietro e come mettersi la scarpa la scarpa la scarpa va calzata all'interno il piede va incalzato all'interno della scatola è che si appoggia il piede sopra la scarpa per metterlo avanti e indietro e così vedrete partite dalla base poi ovviamente fatevi aiutare da istruttori nei vari tiri a volo si possano trovare di tutte le razze perciò basta chiedere merita investire del tempo e del denaro per arrivare a una stagione venatoria essere perlomeno capaci di inquadrare l'oggetto consiglio mio è sparare sparare molto ma cercare di migliorarsi perché tante persone sparano molto e si adattano alle armi perciò quando tu prendi il fucile del babbo del nonno e inizi a sparare non stai a pensare a cosa spari te in braccia spari piano piano vedi che migliori ma non è che non è la regola cioè non ti devi adattare tu all'arma e l'arma si deve adattare a te stesso quindi merita a far sistemare un fucile perché la cosa diventerà ancora più semplice una piega fatta bene ti riduce del 50 60 per cento lo spazio in cui metti la fucilata cioè se io imbraccio con una piega fatta a misura io so che un imbraccio se imbraccio rettamente miro bene entro in un certo range se ho un fucile completamente fuori dalle mie misure non so neanche dove sparo quindi tante volte sparo la prima l'imbracciatura perché il cervello non ha tempo per accomodarsi sull'arma sparo la prima il servatico va via di seconda lo riprendo questo è un fattore che a tante persone capita quindi mi raccomando quando colpite i vostri bersagli di secondo terza canna fatevi due domande e fate delle prove più chiaro perché una giusta piega ti porta a colpire il bersaglio al primo colpo questo è fondamentale ma soprattutto ricordate ricordate lo so che a caccia non c'è tempo che quando si cammina nel bosco non c'è verso appoggiarsi bene però cane fermo oppure allo spollo la mattina tutti i tiri in cui ci sia da da essere rapidi e non sa e non si sa da dove può venire ovviamente la caccia al colombaccio un colombo che vedi arrivare a 30 metri di posizioni lo aspetti quando arriva alla giusta distanza spari ma una beccaccia che ti frulla davanti al cane oppure dietro o un cinghiale che alla posta ti arriva a tutto fuoco come si dice noi richiede un'imbracciatura perfetta se devi sparare veloce altrimenti non sa dove ti ha altri colpi altro problema molto grosso è sparare a testa alta questo è un problema che molte persone fanno soprattutto nei tiri semplici arriva al cinghiale io lo aspetto guardate e questo è quello che succede cioè io sono alto 10 centimetri sopra alla bindella e rischio di posizionare le mie fucilate chissà dove oppure arriva al colombaccio io lo aspetto in braccio sto a testa ritta e rischio di fargliele completamente fuori questo è un fattore che capita a moltissime persone un animale semplice ti porta a stare con la testa alta sul calcio e piazzi le fucilate chissà dove invece di posizionarti direttamente un tiro molte persone sparano meglio d'imbracciatura cioè un tiro perché tendano sempre quando quando spari veloce te tenderai sempre a schiacciarti sul fucile e solo quando spari con calma che fai questo errore qua ecco perciò pensateci bene se mandate via gli animali che vengano bene o i piattelli quelli più semplici e prendete quelli veloci al 90 per cento del credore è questo quindi dovete lavorare su un discorso più mentale che sull'arma perché l'arma si arriva a un certo punto ma bisogna anche saperla mandare e questo è una cosa fondamentale altro grosso problema che colpisce determinate persone indipendentemente dalla forma fisica è la vista la vista o chi ha pochi decimi su un occhio o chi ha l'occhio guida predominante diverso cioè persone che vanno a caccia da una vita imbracciano di destro ma mirano con l'altro occhio e magari non se ne renda neanche conto se finché spari di imbracciatura cioè imbracci pam e spari la ci va la fucilata però se ti trovi a mirare e praticamente provata ha fatto una prova imbracciato del vostro fucile di destro e chiudete l'occhio destro vedete che la canna è completamente dall'altra parte o viceversa chi mira chi spara di mancino all'occhio guida destra ecco queste le soluzioni sono due diciamo le soluzioni sono o inizia a sparare di mancino per chi ha l'occhio guida mancino perché fate il conto che la linea è questa quindi se io imbraccio la linea deve essere dritta se io sono occhio guida predominante sinistro la linea interseca quindi rischio proprio di non sapere dove sparo perciò la soluzione più rapida specie chi inizia è sparare di mancino imparare a sparare di mancino in maniera che negli anni perderai un anno sì però dopo avrai la stessa probabilità di torpire un selvatico come un destro naturale quindi lì risolvi tutti i problemi al 100 per cento una volta presi via chi però è anni che spara di destro e vuole però continuare a sparare di destro un'altra soluzione è fare un calcio ergonomico cioè calci speciali che vanno fatti solo su determinate armi però è un intervento molto invasivo si fa su persone che magari hanno perso un occhio lì dove ormai oppure persone di una certa età che non si che non riescano a ormai a modificarsi più di tanto quindi quello è una cosa che si fa proprio nei casi estremi anche perché consiste nel cambio del fucile oppure modificare quello che abbiamo ma solo poche armi lo possano solo su poche armi lo possiamo fare e altrimenti la soluzione o applicare un punto rosso in maniera da poter sparare a occhi aperti in facilità o altrimenti adattare una piega in base all'imbracciatura cioè non si porta più il fucile verso l'occhio della persona ma si porta al fucile dove mette le fucilate io ti faccio sparare il cliente faccio la deviazione fino a portare la fucilata diritta nella alla vista del cliente ovviamente non si risolve al cento per cento ma diciamo un 60 70 per cento il problema ma resterà sempre su un discorso di tiro a fermo cioè chi caccia il capanno e mira con l'occhio sinistro l'occhio guida sinistro invece che il destro va sempre in molte difficoltà nello sparare ecco queste sono piccole cose che sommate a tutto portano al buon risultato del tiro per chi soffre dell'occhio guida diverso da quello in cui imbraccia si complica un po di più la cosa però i sistemi per risolverlo non del tutto ma migliorare si trovano per gli altri sistemi imbracciatura e testa alta lì bisogna lavorarci la miglior cosa è tanta pratica però ricordatevi quando sbagliate quando vedete che al piattello ovviamente le prove si fanno bene anche al piattello vedete che la vostra media è sempre lì è sempre non migliorate provate a fare qualche cambiamento tanto chi spara capisce subito se c'è qualcosa che non va uno inizia da poco ancora non ha la pratica ma chi già è tanto che spara al momento che arrivi a premere il grilletto se il selvatico va via ci sono quei momenti noi diciamo a botto a sicura cioè quando io sono certo che di norma quel tiro è semplice per me e il selvatico va via una volta può essere un caso un'altra volta può essere che ho sparato a testa alta un'altra volta può essere l'emozione che porta a tutte e due cioè imbracciare male e stare a testa ritta ma se il problema persiste è bene farsi aiutare da un armaiolo o qualche maestro di tiro che vi possa consigliare cosa fare alla prossima